Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart e in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Calenzano e il Bivio, con la variante di Valico in direzione Bologna. In a 12 invece, a causa di lavori di ripristino del fondo stradale, si segnalano possibili rallentamenti in entrambe le direzioni, tra Colle Salvetti e l'allacciamento con la statale 1 Aurelia. Passiamo sulla FIPI lì dove si ricorda che è stato prorogato fino al 31 dicembre il restringimento di carreggiata a causa di lavori sulle barriere acustiche tra Firenze e Firenze Scandici in direzione Mare. Sulle raccordo Siana-Firenze si ricorda che sono ancora in vigore i restringimenti e scambi di carreggiata a causa di lavori, tra San Casciano e l'allacciamento con la 1 con possibili rallentamenti in entrambe le direzioni. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio! Buon viaggio!